Poco più di 700 attività commerciali hanno pagato Latari 2016 a Palermo e dunque da lunedì meriteranno il logo Io Pago Latari da affiggere alle vetrine. Il Comune di Palermo ha compilato la lista dei buoni. Si tratta di 110 tra ristoranti, osterie, pizzerie, pub e birrerie, 161 tra bar, caffetterie e pasticcerie e 442 tra supermercati, panifici, macellerie e salumerie. Una minoranza, secondo il Comune, che ha svelato non essere in regola con l'imposto sui rifiuti il 91% dei ristoranti, l'86% di bar, caffè e pasticcerie e l'85% tra pesci vendoli, fiorai e frutti vendoli. Ciascun esercente, inserendo la partita IVA nel portale dei servizi online del Comune di Palermo, potrà ricevere il proprio logo nella casella di posta elettronica che sarà indicata. L'idea del bollino Tari, secondo il sindaco Leoluc Orlando, è un'iniziativa anomala, perché è anomalo, secondo il primo cittadino, che l'eccezione sia costituita da chi è in regola con il pagamento delle tasse. Le associazioni di categoria però insorgono. Avevo detto che trovavo bella l'iniziativa del Comune di regalare un bollino a chi era in regola, dichiara Patrizia Diddio, presidente di Confcommercio, ma non avevo capito che l'amministrazione intendesse rendere pubblica una lista con i nomi di chi paga e una gogna al contrario. Grazie a tutti.